Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. E ora passiamo al premio dedicato alla squadra dell'anno. Per consegnare questo premio chiamo sul palco Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere. Ciao Leonardo, come stai? Ciao Raggetti, buonasera a tutti. Allora, benvenuto Leonardo. Allora, ci spieghi subito, come solo tu sai fare, l'irresistibile claim di MSC che è proprio gioco di squadra. Quindi mi sembri la persona giusta per premiare la prossima categoria. Chi si sposa con questa serata di sport e cerca di essere anche molto convincente, che siamo a casa tua. In effetti le navi funzionano perché è un gran gioco di squadra. Vero i 6.000 persone a bordo di questa nave, ma 4.000-4.500 sono ospiti, il resto è l'equipaggio. E un equipaggio funziona se sta a fare un gioco di squadra vero fornendo quello che è il nostro goal. Il nostro goal è rendere la vacanza dei nostri ospiti indimenticabili. È quello che proviamo a fare ogni domenica, ogni giorno di tutto l'anno. Accogliendo sempre tutti col sorriso e cercando di regalare un ricordo, che è la cosa più bella, che la crociera non finisce quando finisce. No, la crociera non deve mai finire perché bisogna pensare alla prossima mentre si sta terminando la prima, quindi è un continuo. Un'angoscia totale quindi, in qualche modo. Speriamo un piacere. Solo per chi ci lavora, per chi ci viene. Io lo sai, ho fatto tante crociere e ti ringrazio molto perché è un posto dove ci si dimentica quello che ti aspetta a terra, ma poi a terra c'è. Allora, celebriamo la squadra dell'anno. Pensate, poteva essere il Feral Pissalò, poteva essere la Vibonese e invece la squadra dell'anno chiaramente sono i vincitori dello Scudetto 2022-2023. Il Napoli! E a ritirare il premio nuovo in prima visione, scoppiettate come un concord imprevedibile, come una prima visione assoluta, Aurelio Maracaibo de Laurentiis, insieme al capitano Giovanni De Lorenzo. Questa cosa mi dice adesso? Ho paura, guarda. Ma tu hai già lavorato con me, hai fatto un film straordinario. Lo ricordo come fosse ieri. Ciao Presidente. Ciao. Ciao Capitano. Come sta? Io bene, mi dai di lei? Del tuo, del tuo anche grandi pacche. Allora Presidente, come prima domanda voglio farla sentire incalzato, proprio come quando l'ha intervista un giornalista vero. Di quello che vuoi, vai. Di quello che vuoi. Ma io in primis devo ringraziare Luciano Spalletti perché è riuscito a modellare un gruppo di lavoro come pochi e poi soprattutto perché alla fine del primo anno avevamo levato sei giocatori fondamentali e li avevamo sostituiti con degli altri. Quindi chiaramente poteva esserci qualche dubbio, qualche dubbio che mi ricordo mi dicevano i tifosi vai a Napoli, prendi l'autostrada A16 e venivano addirittura in ritiro così a fomentare tutti i contro di me che avevo mandato a casa questi sei beniamini. Ma in realtà nel calcio noi commettiamo un grande errore che è un errore di valutazione psicologica perché ci sono alcuni giocatori come il nostro capitano che sposano l'idea Napoli che è un'idea che non è solo calcistica ma è un'idea di vita, un'idea di città, un'idea di partenopeismo che è come una dea che nasce dall'acqua e loro la sanno interpretare ma tu sei una dea perché sei un'idea dell'ironia. Poche donne io conosco soprattutto nel mondo delle attrici ironica e capace estemporaneamente di essere così scoppiettante come te perché tu hai dei tempi incredibili, li riempi tutti. E quindi no, ritornando a Spalletti, Spalletti ha saputo coniugare dei personaggi nuovi che non conosceva e farli rendere al massimo. Chiaramente poi sai, questa è una città che ha aspettato 33 anni e quindi è una città che vorrebbe vincere lo scudetto tutti gli anni. Però secondo me questa è una città che vince lo scudetto della supremazia di essere napoletani da secoli e quindi soltanto i francesi ci hanno un po' annebbiato nell'ottocento. Eh beh la simpatia dei francesi poi gli insidiano un po' eh. Sai poi il nord con Cavour ci ha proprio messo per terra, ci ha steso e adesso però questa è una città che si sta riprendendo notevolmente. Un po' grazie allo scudetto caro sindaco, un po' al nostro sindaco che è un illuminato ex rettore, ex ministro, uomo brillante e soprattutto trasparente. Perché sai la trasparenza in Italia è una cosa complicata come virtù e lui ce l'ha, quindi è un grande vantaggio anche per noi. A questo punto io mi riduco perché se no ti vedo... No, no, io ti sei da ascoltare per minuti e minuti, però purtroppo... C'hai i tuoi tempi, la tua scaletta. No, no, la nave parte. La nave parte. Allora, scusa, per fare la foto, quindi Leonardo Massa consegna il premio all'anello Damiani. Ma tu mi dai un anello? Damiani. Ah, un mio capitano, che ci dici? Ha parlato tutto lei presidente, come sempre. Vabbè capitano. No, naturalmente vincere lo scudetto a Napoli e rendere felici un popolo come quello napoletano è qualcosa di bello. Penso sia stata la vittoria di tutti. È stato un lavoro incredibile da parte di tutti, dalla società, dal presidente, dal mister che è riuscito a farci diventare campioni, a tutti i giocatori, a tutta la gente che lavora nel Napoli. E quindi è stata veramente un'emozione unica. Ho ancora in mente i festeggiamenti della città. È veramente un'emozione che mi porterò dietro per sempre. Allora, Giovanni, tu hai fatto tantissima gavetta. Sei partito dalla Serie D. Hai giocato in Serie C fino a vincere un europeo e uno scudetto da capitano. Non è ora di chiedere un aumento. Gliel'abbiamo già dato? Sì? Già dato. Quest'estate abbiamo esteso il contratto per cinque anni dandogli un aumento. E quindi, vedi, sei arrivato in ritardo. Sorridi, sorridi. Penso che il merito comunque sia anche del mister. Se vuoi venire mister qua con noi. Spalletti. Salga che ci si impegnano gli ascolti. Datevi dei pugni. Mister che... Ora sono arrivato con entusiasmo. Un altro proprio, si vede. Nei stiano in mezzo. Che gioia. Gli amici si sentiva abbastanza. Volete, vuoi dire qualcosa capitano? Volete limonare brevemente? No, no. Davanti a tutti, in privato. Allora glielo voglio dire io. Ti voglio bene a sé. Anch'io, mister. Glielo avevi già detto prima, no? Glielo ripeto anche domani. Guardi, Presidente, sta andando... Ma poi anche in nazionale, no? Sta andando tutto bene. Allora, vogliamo fare un totale applauso di in bocca al lupo a Spalletti per le prossime partite della nazionale? Si è messo la mano in tasca, ma è stato totalmente un caso. Siccome la Gazzetta dello Sport porta in giro quello che succede ai napoletani nel mondo, io da domani sarò napoletano, aspetto che rivinca il Napoli per avere le notizie delle gioie dei napoletani. Volevo vedervi vicini. Grazie, grazie. È un augurio che accettiamo. Bene, facciamo una foto tutti insieme, i napoletani. Grazie. Ringraziamo il Capitano, mister Spalletti, il Presidente dell'Aurentis, Leonardo Massa. Grazie, grazie infinite a tutti. Grazie.